avrei soltanto voglia di sapere non pensarmi che fine ha fatto e chi sta con lei non pensarmi buongiorno amici dello zaccolaturo buongiorno oggi sono partito con i cugini di campagna perché 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 voglio parlare dei cuginetti nero blu nero blu nero blu nero blu ho preso nello specifico il grande hermes messangelo nero azzurro e metalo che sono due youtubers che io stimo e rispetto perché sono molto competenti e non parlano mai a caso sempre pacati non sono mai volgari e spiegano le cose bene io li seguo perché imparo da loro imparo tante cose anche soprattutto a livello di fair play a livello di notizie sono sempre molto informati e quindi li seguo molto volentieri quindi il mio non sarà un video contro di loro assolutamente anzi vi invito a seguirli perché sono bravissimi sono nero azzurri quindi voi capite bene essendo milanista sai sono un po così nero azzurri e quindi c'è c'è un po questa questo sfottò questa provocazione che mi piace perché il calcio alla fine il sale del calcio è quello oggi però non li voglio sfottere voglio parlare di un argomento serio che è il fair play finanziario perché loro sostengono giustamente che ti portano tutti i bilanci dell'inter non possono riscattare adesso non riscatteranno neanche raffigna e canselo in questo bilancio che finisce il 30 giugno poi dal primo luglio possono comprare perché ci sono i paletti finanziari del settlement agreement tutto giusto quello che dicono voi li ascoltate e loro vi spiegano tutto alla perfezione io però è tutto l'anno che un po' li provo che un po' li spotto non perché io non sia informato e non sappia quali sono le regole ma non condivido il loro pensiero generale nel senso che noi tifosi delle grandi squadre sia milan che inter poi ci sono delle belle differenze tra milan e inter perché magari dopo vi spiego non possiamo e non dobbiamo accontentarci di questo cioè loro danno come concetto finale dopo aver detto tutto giusto è così e quindi inutile che diciamo cavolate bisogna fare così non è non è così nel senso che è così se ci teniamo sti cinesi che non mettono praticamente nulla ormai hanno comprato non mettono niente vogliono che ci auto manteniamo e non stanno secondo me nemmeno investendo per il futuro seguendo il loro ragionamento perché il loro ragionamento che tra l'altro è giustissimo presuppone una società sana come giusto che sia come giusto che sia quindi niente magheggi come fa il pari san germen e cose varie e sono anche d'accordo perché non è che facendo i magheggi prima o poi la uefa viene a darti il conto tu mi dirai come sta facendo con il milan no il problema del milan è un altro secondo me io ovviamente parlo sempre per parere mio il problema del milan non è economico il problema del milan è di trasparenza da dove provengono questi soldi chi è questo young only può essere mai che uno che ha 100 milioni così non si sa bene come solo quelli tra l'altro non risulta che abbia aziende c'era una miniera che poi in realtà non c'è ha delle partecipazioni qua e là però questo qua praticamente ha messo tutti i suoi soldi nel milan come investimento e sarebbe venuto due volte tre volte a milano seguire partite ha messo la società in mano a fassone mirabelli che per lui sono nessuno nel senso che non è che li aveva in altre aziende o si conoscevano e e si è giocato tutto così non lo so mi sembra un po strano e forse sembra strano anche la uefa infatti la uefa la paura della uefa è che facciano un po come i ristoranti cinesi no cioè ottobre cambia giargiana arriva un nuovo cinese e non si sa bene chi è proprietario diciamo che la uefa secondo me sta spingendo perché vuole far venire allo scoperto quello che è il milan no non ci sono problemi economici perché semplicemente perché il fondo eliot che è uno dei fondi più ricchi al mondo anche più ricco di suning ha garantito ha garantito per il milan garantito proprio per iscritto di conseguenza non c'è un problema fallimento che non ci siano dei pagamenti perché c'è il fondo eliot che garantisce il problema è molto più sulla trasparenza quindi non è che noi abbiamo speso 200 e rotti milioni e quindi siamo nei guai perché gli abbiamo spesi quei soldi la che non potevamo spenderli i problemi sono altri che sono molto diversi da quelli dell'inter per quanto riguarda l'inter come stavo dicendo secondo me non bisogna accontentarsi di sti cinesi perché oltre a essere arrivati a 30 punti dalla juve ragazzi a 30 punti dalla juve siamo arrivati e 30 punti pure dal napoli dato che non vogliamo prendere la juve ma 30 punti anche dal napoli siamo arrivati cioè inter e milan non possono arrivare a 30 punti da napoli e juve mettetelo in testa quindi c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va la juve è partita dalla serie b in due anni è tornata a vincere sono sette anni che vince e sta competendo con le europee noi siamo a 30 punti dalla juve per arrivare alla juve cosa dobbiamo fare seguendo questi paletti del fair play queste cose qua c'è qualcosa che non quadra perché siamo troppo lontani quando ci arriviamo se sbagli un acquisto ricominci da capo cioè se tu quest'anno adesso sei arrivato quarto per miracolo per miracolo perché è l'ultima giornata con la lazio se l'anno prossimo non arrivi di nuovo in champions che può essere benissimo perché è la stessa rosa di quest'anno è preso devrai ottimo acquisto bisogna vedere chi comprerà ma compreranno anche le altre compreranno anche le altre se l'anno prossimo non arrivi in champions cosa facciamo ricominciamo un altro anno per arrivare in champions cioè ragazzi ma siamo milan e inter non possiamo metterci a quel livello là dobbiamo essere a un livello più alto a un livello più alto e poi come dicevo prima seguendo loro ragionamento no come ha fatto la juve a diventare la juve prima cosa lo stadio se noi vogliamo seguire tutte le regole che diciamo che il presidente non può mettere soldi che poi va bene fammi lo stadio sei un presidente pieno di soldi come su ning perché non prendi un pezzo di terreno e non fai lo stadio e ma c'è il progetto perché col milan adesso forse ho sette anni che la juve cia lo stadio sette anni noi ancora non abbiamo nemmeno l'idea di cosa fare è inutile che l'inter dice che colpa del milan e il milan dice che colpa dell'inter e il milan e l'inter dicono che colpa del del sindaco sala sei lì per fare un progetto a lunga scadenza prima cosa devi fare lo stadio la juve sta facendo un villaggio con gli hotel un villaggio sta facendo e noi ancora dobbiamo decidere se tenere san siro se fare uno stadio nuovo ma ragazzi quando li recuperiamo quando li recuperiamo vogliamo rimanere nel fair play finanziario almeno almeno devi fare lo stadio io guarda posso anche accettare che mi fai due campagne qui due anni senza comprarmi nessuno ma mi fai lo stadio non stanno facendo neanche lo stadio e quello è il primo passo il primo primo secondo passo la juve prende i giovani se voi vi ricordate i vari zazza aveva l'opzione su berardi adesso c'ha mandragora c'ha caldare spinazzoli che tornano c'ha i giovani che giocano titolari nelle squadre di serie a e con quelli fa cassa la juve quelli forti forti se li porta ma ne ha tanti altri che li usa solo per fare cassa li prende in prendere prelazioni eccetera e poi li rivende mira le inter cos'hanno cos'hanno l'inter sono anni che vince i tornei primavera sono anni che l'inter c'ha una primavera che continua a vincere e non abbiamo fatto e non ha fatto ancora cassa con niente ma ragazzi c'è qualcosa che non quadra il grande ausilio forse non è così grande ma lo stesso vale per il milan io ce l'ho anche con il milan che però come vi ho detto un discorso un po diverso c'è la nuova proprietà eccetera quindi miei cari ermes e metallo io non vi do mai torto perché siete competenti e informati quindi non vi do torto su quello che dite dico che forse non bisogna accontentarsi non bisogna accontentarsi di nella mediocrità perché adesso siamo mediocri milan e inter sono mediocri mediocri quindi non ci dobbiamo assolutamente accontentare di questa mediocrità e soprattutto l'anno che viene dato che ormai siete in champions dovete essere non a 30 punti dalla juve a 7 punti non dico che dovete vincere ma a 7 8 punti dalla juve dovete arrivare a fine anno no a 30 se l'anno prossimo arrivi ancora a 30 punti vuol dire che non hai ancora fatto niente devi rifare tutto da capo e soprattutto ragazzi miei voi se volete sostenere il fair play se volete sostenere che il suning ci tiene di qua di là dovete essere i primi ogni video ogni video a chiedere lo stadio è la prima cosa se volete una società sana lo stadio di proprietà che è solo il punto di partenza punto di partenza so che lo chiedete ma poco ma poco bisogna chiedere di più e soprattutto una politica di giovani diversa che devono far venire cassa non solo devono diventare titolari e quindi giocare perché non ci sono cioè milan fortunatamente si è ritrovato il donnarumma il cutrone eccetera va bene ma l'inter pinamonti cosa ha fatto quattro minuti quest'anno che è l'unico forse giovane ma tutti gli altri o avete vinto tornei primavera come è possibile che questi non giocano come è possibile c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va nella gestione della società nella gestione della società non è una cosa di bilancio nella cosa economica è questione di gestione e su questo un interista come te come termes come temetano degli interisti come voi che puntano ad avere una società sana e puntano le regole devono essere più fiscali invece di arrabbiarvi con chi dice che ce ne sono tanti di ignoranti che dicono mi devi comprare messi su questo sono d'accordo con voi non se li può permettere la juve figuriamoci noi che poi uno sceicco sarebbe l'ideale per tutti però non dico che dovete giusto che dovete essere fiscali su ma dovete essere fiscali anche sul fatto che la società deve investire per avere le basi per il futuro adesso voi mi dite adesso ha ripianato i conti vediamo 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 voglio vedere l'anno prossimo io dico che rimanete nella mediocrità perché secondo me i cinesi sia i nostri che i vostri che poi i nostri sono solo rifacciata però vabbè poi discorso mirano è molto più complesso non sono lì per far diventare grande per vincere a loro non interessa vincere se vince va bene sono tutti d'accordo ma loro gli interessa rimanere lì nella mediocrità in modo tale che il loro brand rimane alto e vendono le lavatrici asciugamani con le robe che c'ha su ling interessa solo che loro brand si esporti in europa non ha nessun interesse nell'inter tanto meno anche nel milan io vi metto li metto insieme perché i cinesi sono così vi ho avvisato vi ho avvisato fatemi sapere la vostra sono curioso come vedete sono sempre pacato non attacco mai nessuno ci sta mi piace molto anche poter parlare di opinioni diverse scusate per la lunghezza del video però è un argomento che lo meritava tanto per voi ho cambiato anche location mi sono messo dietro ragazzi ci sentiamo aspetto la vostra risposta a domani ciao belli